Direttore, fra botteghini e tornelli la gente si lamenta, non riesce più a vedere il primo tempo, dobbiamo fare qualcosa. Presidente, se permettete, ho già trovato la soluzione, ho detto al mister di far iniziare a giocare la squadra del secondo tempo, così quelli che se ne stanno fuori non si aprtono niente e non hanno niente da cui la rendersi.